Era agli arresti domiciliari ma continuava a spacciare droghe e aveva creato una rete di videosorveglianza per verificare l'arrivo delle forze dell'ordine e selezionare la clientela da rifornire. Per questo è stata aggravata, mediante l'imposizione del braccialetto elettronico, la misura cautelare nei confronti di Giacomo Shankalepore, di 24 anni, pregiudicato di Taranto. I carabinieri, approfittando dell'uscita di un residente dallo stabile in cui vive il giovane pusher, hanno illuso il controllo delle telecamere e poi hanno perquisito l'abitazione del pregiudicato. Rinvenendo tre dosi di cocaina, materiale idoneo al confezionamento, un bilancino di precisione, la somma contante di 350 euro in banco nota di vario taglio. I militari hanno sequestrato anche il monitor e le due telecamere che riprendevano in tempo reale l'atrio condominiale, la rampa delle scale e il pianerottolo del piano dell'abitazione del 28enne. Il giovane è stato prima condotto in caserma e dichiarato in arresto per faccia di sostanze stupefacenti e poi, su disposizione del pubblico ministero di turno, Ida Perrone, riaccompagnato alla sua abitazione in regime di arresti domiciliari con l'applicazione del braccialetto elettronico.